Aiole abbandonate, erba incolta e rifiuti. E' questa la situazione di abbandono che coinvolge una delle principali aree della città di Torre del Greco, il porto. In particolare ci troviamo nei pressi della scala che collega alla passeggiata del molo di Ponente. In questo punto i cespugli hanno raggiunto dimensioni considerevoli che ne impediscono e ostruiscono il passaggio. Aree verdi a redo urbano abbandonate a Torre del Greco, in particolare nelle aree del porto dove la vegetazione è ormai fuoriuscita dalle aiole creando cespugli di considerevoli dimensioni. Anche le strade di marciapiedi non sono da meno. Le aree per il passaggio pedonale sono occupate da cespugli e fiori che molto spesso costringono i pedoni a dover percorrere lunghi tratti tra le automobili. Le scale che conducono alla passeggiata del molo di Ponente del porto appaiono in condizioni di abbandono. L'erba incolta occupa ormai quasi tutte le scale rendendo difficoltoso l'attraversamento da parte dei tanti cittadini che ogni giorno la percorrono. Una situazione di disagio anche in vista della stagione estiva ormai alle porte e con l'aumentare di avventori nell'area porto anche a seguito dell'allentamento delle normative covid. Negli scorsi mesi aveva avuto luogo un'azione di diserbo stradale delle aree periferiche, trascurando però le zone centrali della città. Nel mentre, nel porto di Torre del Greco, stanno continuando i lavori di restyling e di arredo urbano. Proprio a pochi metri dalla vegetazione incolta sono state installate panchine, fioriere e recinzioni di alcune parti della banchina. Arredo urbano che ad oggi ancora non completo ma che vede già rifiute ed imbarcazioni depositate a ridosso delle panchine. Una situazione contrastante, da un lato il restyling urbano e la riqualifica di aree portuali abbandonate e dall'altra una cura del verde pubblico pressoché assente.